Quest'anno, il 2018, è stato l'anno della scomparsa e della morte di Philip Roth, il grande scrittore americano, ebreo americano, anche se lui non ama essere, non amava essere definito ebreo americano, diceva americano mi basta, ma la sua ebraicità intride tutta la sua opera, anche se lui verso la sua radice ebraica è stato trasgressivo, iconoclasta, ironico, quasi beffeggiante, ha avuto le sue grane col suo mondo. Si potrebbero leggere molti dei bellissimi libri di Philip Roth, ve ne posso consigliare molti, ma io voglio consigliarvi di cominciare dal primo di una serie, la serie dedicata allo scrittore inventato da Roth, lo scrittore Nathan Zuckerman, e questo primo romanzo è dal 1979 e si intitola Lo scrittore fantasma, edito e riedito in Italia da Einaudi, poi questo ciclo ha continuato per 28 anni e nel 2007 c'è stato l'ultimo del ciclo, il fantasma esce di scena, ma cominciamo con questo, qui Nathan Zuckerman, questo scrittore inventato, inaugura appunto il gioco dell'alter ego, quindi Philip Roth non parla di sé, ma parlando di uno scrittore da lui inventato parla anche molto di sé, e questo suo giovane scrittore è Nathan Zuckerman, che è aspirante, scrittore, vuol diventare celebre, ha il coraggio di scrivere una lettera a un grande scrittore invece già di successo, un grande vecchio della narrativa americana, che non esiste nemmeno quello, alcuni hanno visto Tizio Kao Semprone, ma insomma si chiama Lonoff e lui riesce a farsi ricevere, a stare due giorni nella sua casa baita, su nei boschi, sotto in giornate di neve, lui sta lì davanti al fuoco ad ammirare questo grande scrittore, custodito da una moglie attentissima, ma c'è lì anche una giovane ragazza studentessa, si chiama Ami Bellet, che ci fa quella lì, non si sa, poi la cosa si aggroviglia un poco, ma è interessantissimo vedere come il mondo delle lettere, delle aspirazioni, della presunta gloria, del tormento dello scrivere si è appresentato nella sua sincerità, nella sua verità, ma anche in una ironia beffarda, lì Fili Brotti è già subito grande nell'enumerare riflessioni, pensieri, affondi critici e già subito appare anche la sua difficoltà nel farsi accettare della propria famiglia, del proprio ambiente, lui che è così trasgressivo, lui che rivela alcuni segreti, si fa per dire, della propria comunità, della propria famiglia, scrivendo dei racconti e subito scandalizza il suo ambiente un po' conservatore, ebraico, americano, qui c'è già dentro tutta la viena ironica, iconoclasta, trasgressiva, divertente, intelligentissima dello scrittore Philip Roth che gioca a fare lo scrittore, che gioca con gli scrittori.